Il processo conti di lavagna emesse dal Tribunale di Genova le sentenze di primo grado riconosciuti colpevoli di voto di scambio i due ex sindaci Gabriella Mondello e Pino Sanguinetti. Due milioni di euro per la messa in sicurezza delle gallerie di Sant'Anna. Se non ci saranno ostacoli, lavori al via a settembre, è previsto il potenziamento della massicciata mare. Nuovi incentivi per le assunzioni in alberghi, bar e ristoranti sono contenuti nel patto per il turismo finanziato dalla Regione e firmato da sindacati e parti datoriali, ma pochi li usano. Domani prima riunione del nuovo Consiglio Comunale di Rezzo Aglio. Il sindaco Roncoli ha composto la sua giunta, vice sarà Manuela Caseleggio, assessore Enrico Benzoni. L'unità non è massificazione ma amore ed è essenziale anche nei luoghi di lavoro. Il messaggio di Monsignor Alberto Tanasini alla Espa di Moconesi per la celebrazione del precetto pasquale. La Juniores della Virtus Entella conquista il campionato Berretti. Sconfitta la Ternana, la formazione di Castorina in rete al 91esimo con un colpo di testa dell'ungherese Naghi. Buonasera ai telespettatori di Tigugli oggi. La cronaca giudiziaria è in apertura nel nostro telegiornale perché sono state lette questa mattina in Tribunale a Genova le sentenze di primo grado relative all'inchiesta Conti di Lavagna per infiltrazioni dell'Andrangheta nel comune lavagnese. Il bilancio parla di 14 condanne e 6 assoluzioni pesante le pene stabilite per coloro i quali sono stati considerati i rappresentanti della malavita sul territorio. Condannati anche i due ex sindaci Mondello e Sanguinetti coinvolti nell'inchiesta. Facciamo il punto. Con la sentenza di primo grado del processo Conti di Lavagna viene riconosciuta la presenza dell'Andrangheta anche nelle vante lingure. Dopo i risultati dei processi in maglio 3 e la svolta che avevano certificato la presenza di organizzazioni mafiose nel Ponente e a Genova, un altro tassello dello sforzo investigativo degli inquirenti della magistratura viene riconosciuto dai giudici. Nel giorno delle condanne pronunciate dal Tribunale di Genova per il processo sulle infiltrazioni dell'Andrangheta nel comune di Lavagna e il commento dell'Associazione Libera per la Liguria a sottolineare quell'ulteriore passo in avanti nel portare alla luce quel legame tra politica e malavita che per la prima volta viene riconosciuto nel Tiguglio. Così le condanne a un anno e sei mesi, oltre alla sospensione dei pubblici uffici dell'ex sindaco di Lavagna, Gabriella Mondello, accusata di voto di scambio, e di due anni per l'ex primo cittadino Giuseppe Sanguinetti, le accuse in questo caso sono quelle di voto di scambio e abuso d'ufficio, si affiancano a quelle ben più pesanti, a colore i quali, secondo i giudici, erano gli esponenti della criminalità organizzata sul territorio. Paolo Nucera è stato condannato a 16 anni e sei mesi di reclusione, Antonio Nucera a 13 anni e sei mesi, Francesco Nucera a 9 anni e sei mesi, e per Francesco Antonio Rodà una condanna a 15 anni e otto mesi. Per questi quattro imputati è stata stabilita inoltre la libertà vigilata per due anni, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale nell'ambito delle misure previste dal 41 bis per i reati di associazione mafiosa. Sei gli anni di reclusione decisi invece per l'imprenditore Paolo Paltrinieri, mentre ne escono assolti due dipendenti comunali coinvolti nell'inchiesta, Piero Bonicelli e Lorella Cella, e l'ex consigliere comunale di Lavagna, Massimo Tallerico. L'importante è che venisse riconosciuta la bontà delle indagini, e ha commentato Alberto Lari che ha seguito il processo come sostituto procuratore insieme ad Anna Chiara Paolucci e oggi è procuratore capo a Imperia. Soprattutto l'associazione mafiosa e il voto di scambio e alcuni abusi d'ufficio. Soddisfatto anche il procuratore capo Francesco Cozzi, è stata confermata la bontà del nostro lavoro e per questo voglio ringraziare il dottor Lari e la dottoressa Paolucci che insieme alla Polizia giudiziaria e alla Polizia di Stato ha condotto l'indagine. In attesa di leggere le motivazioni della sentenza e che si svolgano gli ulteriori gradi del processo e ancora al commento dei responsabili di Libera, oggi possiamo ribadire quanto sia ormai errato sostenere le tesi riduzioniste o negazioniste rispetto all'arradicamento del fenomeno mafioso in Liguria. I sequestri di beni avvenuti nei giorni scorsi, proprio nel Levante, evidenziano quanto sia necessaria una maggiore e diffusa consapevolezza. Partiranno a settembre i lavori di messa in sicurezza e restyling delle gallerie di Sant'Anna sull'Aurelia tra Sestri Levante e Lavagna. Completata la fase progettuale si attende ora alla conclusione della gara d'appalto. A disposizione un finanziamento di oltre 2 milioni di euro, previsto anche il potenziamento delle difese a mare per risolvere il problema legato alle mareggiate. Vediamo. Sarà un intervento strutturale suddiviso in tre parti. Una prima interesserà le componenti interne ed esterne delle gallerie. La seconda vedrà il consolidamento delle difese a mare attraverso il potenziamento della scogliera per eliminare definitivamente tutte quelle problematiche legate alle mareggiate e alla conseguente chiusura forzata della viabilità. L'ultima sarà una verifica dell'intero versante a monte con interventi di potenziamento delle reti di contenimento e la realizzazione di un nuovo sistema antincendio. Ammonta ad oltre 2 milioni di euro il progetto definitivo per la riqualificazione delle gallerie di Sant'Anna lungo l'Aurelia tra Lavagna e Sestre Levante. L'intervento approvato da Anas in queste settimane e se non ci saranno ostacoli al termine della giudicazione della gara di appalto già bandita e di cui si aspetta solo la chiusura prenderà il via a settembre. A confermarlo il capo compartimento per la Liguria di Anas l'ingegnere Salvatore Campione. La società e sua la competenza di quel tratto di strada ha elaborato il progetto definitivo sulla base delle richieste formulate dagli enti locali in primis il Comune di Sestre Levante in occasione degli incontri che si erano sosseguiti al periodo di chiusura delle gallerie nel gennaio del 2018. Proprio in occasione della grossa frana che aveva interessato il versante messo in sicurezza dopo un lungo e complicato lavoro di disgaggio dei massi pericolanti e di posa delle reti di contenimento era iniziato un percorso di confronto che si è andato concretizzando con la stesura di un progetto e il reperimento dei fondi necessari per realizzarlo. Ora dunque si è pronti a partire. Dei tre interventi previsti il primo presumibilmente sarà quello che dovrebbe andare a risolvere una volta per tutte la problematica legata alla chiusura forzata della viabilità nei giorni di mare mosso. A questo proposito verrà potenziata la massicciata a ridosso del versante in modo da frenare la potenza delle onde che oggi invece invadono completamente la carreggiata mettendo a rischio la sicurezza di motociclisti e automobilisti. Una volta completata questa fase la successiva sarà il ripristino delle strutture interne ed esterne in cantiere il rifacimento delle pareti e delle coperture dei piloni in cemento armato deteriorati dall'azione del salino e del tempo. Nel contempo sarà effettuato un accurato lavoro di verifica e controllo delle reti di contenimento del versante. In ultimo sarà implementato un nuovo sistema antincendio che garantirà la sicurezza all'interno del tunnel. A questo proposito giovedì prossimo in regione è stata convocata una conferenza dei servizi. Sul tavolo il progetto di una vasca di raccolta dell'acqua a servizio del nuovo impianto da realizzarsi all'imbocco della galleria Lato Sestri Levante. E a Portofino riapre domani la passeggiata dei Baci. Notizia che andiamo a leggere sul nostro sito www.teleradiopace.com L'inaugurazione è fissata alle 18 dalla Baia di Paraggi per percorrere il sentiero il cui recupero è stato cofinanziato grazie al Fondo Strategico Infrastrutture di Regione Liguria. Alla cerimonia è annunciata la presenza del Presidente della Liguria Giovanni Totti e dell'assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone. Gli incentivi ci sono ma pochi li usano. Stiamo parlando delle misure finanziate dalla Regione con 3 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo per destagionalizzare il turismo e stabilizzare l'occupazione. Si tratta di incentivi per nuove assunzioni contenuti nel patto per il turismo siglato in Regione dai sindacati e dalle parti dattoriali. Un documento che è stato riapprovato alcuni giorni fa. Quali sono le novità? Sostanzialmente rimangono gli incentivi di 3 mila euro l'incentivo per chi assume per otto mesi e di 6 mila euro per chi assume a tempo indeterminato. La novità è che c'è uno step intermedio che è di 4 mila euro per chi assume per nove mesi. Inoltre vi è un'altra novità e cioè chi ha un'assunzione già attivata nel 2018 per sei mesi può prendere i 3 mila euro di incentivo per arrivare agli otto mesi. Ci sono altri incentivi previsti? Sì, sono previsti altri incentivi cioè un aumento del 30% rispetto ai 3 mila 4 mila e 6 mila euro previsti per chi fa l'accordo sindacale 25% in più per chi assume un disabile e un 10% in più per chi assume un disoccupato che percepisce il reddito di cittadinanza. L'altra novità molto interessante è che oltre agli alberghi e alle strutture balneari questa volta l'accordo è stato allargato a bar e ristoranti. Come è andata nel 2018? Allora, nel 2018 abbiamo deciso appunto hanno deciso la regione di rifare il patto per il turismo con una dotazione di 3 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo perché nel 2018 ci sono state oltre 1000 le assunzioni quindi vuol dire che il progetto è andato bene. Purtroppo qua nel Tiguglio le assunzioni sono state poche decine ad esempio qui a Chiavari crediamo che un solo albergo abbia usufruito di questa possibilità. In questi anni in cui si è vista nei numeri una presenza maggiore dei turisti nel nostro territorio l'aumento dei posti di lavoro è stato proporzionale? No, non è stato proporzionale perché sostanzialmente sono aumentati molte i bed and breakfast e soprattutto questo nuovo fenomeno che sono le case in affitto. C'è anche tutto il tema della formazione continua cioè della formazione di chi lavora già nei ristoranti nei bar negli alberghi purtroppo anche su questo diciamo l'Inps dà delle possibilità attraverso i fondi interprofessionali di avere degli incentivi per la formazione ma purtroppo questi vengono usati molto poco qua nel Tiguglio. L'amministrazione di Chiavari acquista il binario morto della stazione ferroviaria per un valore fissato sui 66 mila euro l'area adiacente al parcheggio di via Sarotti danni è dismessa e inutilizzata il comune potrà realizzarvi un parcheggio con 50 posti auto di interscambio in una zona cittadina caratterizzata da un'elevata richiesta. Saranno parcheggi a pagamento la tariffa sarà quella già in rigore presso il parco a Sarotti e allo studio anche il trasferimento di alcuni stalli di sosta di piazza Nostra Signora dell'Orto riservata ai mezzi ATP per poter procedere alla riqualificazione totale della piazza e saranno 30 nuovi parcheggi a pagamento che verranno realizzati a Chiavari diventeranno operativi nel giro di qualche settimana l'amministrazione di capo ha deliberato un aumento delle aree di sosta blu in Largo Moretti e in Corso di Michiel nel tratto compreso tra Corso Brizolare e Via Tripoli nell'ultimo anno diversi uffici pubblici hanno trovato sede nel nuovo palazzo di giustizia in Corso di Michiel e si è reso necessario creare una maggiore turnazione degli stalli adiacenti provvedimento necessario in previsione dei lavori di sistemazione di piazza Roma che comporteranno una riduzione di parcheggi già a partire da lunedì prossimo in Corso di Michiel è istituito il parcheggio a pagamento con tariffa di 1,50 euro all'ora dalle 8.30 alle 13 e alle 15 alle 20 nei giorni feriali per la sosta totale di 16 autovetture a causa dei lavori di ampliamento dei marciapiedi di Via Prandina invece sono stati eliminati diversi stalli e in vista della presenza di molti uffici e attività commerciali è stato necessario crearene di nuovi in Largo Moretti precisamente 14 la cui tariffa oraria di 80 centesimi dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20 dei giorni feriali con possibilità di pagamento frazionato a 50 centesimi e per la politica amministrativa si riunisce domani pomeriggio alle 15.30 il nuovo consiglio comunale di Rezzoaglio nel corso della seduta ci sarà il giuramento del sindaco e la presentazione della giunta vice sindaco sarà una donna Manuela Caseleggio assessore Enrico Benzoni vediamo al sindaco Marcello Roncoli andranno le deleghe a bilancio sicurezza rappresentanza legale e relazioni esterne vice sindaco sarà Manuela Casaleggio per lei le deleghe ad ambiente sviluppo turismo e servizi ai cittadini assessore sarà Enrico Benzoni che sarà titolare di urbanistica lavori pubblici e servizi tecnologici sono questi i nomi e la distribuzione delle cariche della nuova giunta nel comune di Rezzoaglio a completare il quadro degli incarichi anche le deleghe assegnate ai consiglieri di maggioranza patrimonio comunale arredo urbano illuminazione pubblica e rapporti con le frazioni andranno ad Antonio Fontana le risorse umane e sociali andranno invece a Sandro Losi che assumerà anche la carica di capogruppo in consiglio comunale a completare la squadra Giovanni Brignole consigliere delegato all'edilizia Marina Perazzo quella all'agricoltura ed Emanuela Biggio responsabile dei servizi scolastici altri incarichi saranno decisi nel corso del primo consiglio comunale durante il quale il nuovo sindaco traccerà anche il programma di mandato diversi i temi che saranno toccati in primis quelli legati alla viabilità e al turismo è un tallone d'Achile per noi incredibile che se la gente non ha la strada già siamo lontani la strada è già tutta curva ma se è anche brutta fondo sconnesso praticamente le moto non vengono le biciclette non vengono restiamo fortemente indicapati in questo campo sta per iniziare anche la stagione estiva che cosa ha intenzione il comune di fare per promuovere comunque l'arrivo di persone sul territorio la stagione estiva diciamo che inizia con quello che noi diciamo diciamo un circolo lì per i ragazzi un centro estivo che c'era già negli altri anni noi intendiamo portarlo avanti perché è molto seguito molto apprezzato sia da chi viene da fuori e chi viene e quelli della zona i nostri cittadini ci sono anche gli impianti sportivi a Rezzo Aglio anche in questo caso saranno aperti funzionanti si viene appaltato tutto e partirà speriamo a metà di giugno permettendo diciamo le varie inconvenienze burocratiche il sindaco di Recco Carlo Gandolfo ha definito la giunta che lo affiancherà nel prossimo quinquennio il primo cittadino tiene per sé le deleghe a bilancio e tributi personale igiene e sanità fondi comunitari polizia municipale turismo servizi informatici vice sindaco Sarai Vige Fanin con delega l'ambiente assessori Caterina Peragallo ai lavori pubblici demanio marittimo manutenzione frazioni Enrico Zanini urbanistica edilizia attività produttive e cultura Francesca aprile servizi sociali tradizioni locali e gemellaggi Davide Lombardo Manerba pubblica istruzione e politiche giovanili E' stato attivato a Correglia Ligure il servizio ufficio postale a domicilio di poste italiane prenotando la visita del postino tramite un numero verde sarà possibile pagare i bollettini inviare raccomandate e consegnare pacchi da spedire per prenotare la visita a domicilio del portalettere occorre contattare il numero verde 803 160 visitare oppure il sito www.poste.it o intercettare direttamente il portalettere durante il suo giro di consegne Il progetto è parte del programma per i comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall'amministratore delegato Matteo Delfante in occasione dell'incontro con i sindaci d'Italia dello scorso 26 novembre a Roma La cronaca adesso torniamo al fatto accaduto ieri pomeriggio nel mare fra Riva, Trigoso e Moneglia dove un sub ha perso la vita durante un'immersione di pesca nel servizio la ricostruzione di quanto accaduto è stata portata alla camera mortuaria dell'ospedale di Lavagna a disposizione dell'autorità giudiziaria la salma dell'uomo di 62 anni di Crevalcore in provincia di Bologna che è deceduto nel corso di una immersione subacquea a Valle Grande fra Riva, Trigoso e Moneglia le operazioni di recupero condotte dalla guardia costiera e dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco si sono concluse dopo le 19 l'allarme era scattato attorno alle 17.40 quando alcune persone a bordo di un'imbarcazione hanno segnalato la presenza di un corpo senza vita incastrato fra gli scogli a due metri e mezzo di profondità la sala operativa della direzione marittima della Liguria ha allertato la capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure che ha inviato sul posto il personale militare degli uffici locali marittimi di Riva Trigoso e Sestri Levante una pattuglia da terra dall'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure e la moto vedetta i militari della guardia costiera giunti sul posto hanno richiesto l'intervento del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e hanno ricostruito quanto accaduto grazie alle informazioni raccolte sul posto l'uomo si era immerso con un amico per effettuare pesca subacquea al momento dell'emersione l'amico si è insospettito perché ha visto che la boa di segnalazione non effettuava alcuno spostamento ha chiesto dunque aiuto mentre un altro sub presente in zona si è immerso e ha constatato la presenza del corpo incastrato fra gli scogli le persone giunte sul posto con un'imbarcazione hanno contattato il numero unico per le emergenze 112 attorno alle 19 la moto vedetta ha imbarcato i sommozzatori dei vigili del fuoco al porto di Sestri Levante i militari presenti sul posto hanno poi comunicato che il corpo si era disincagliato autonomamente i vigili del fuoco dunque hanno provveduto ad imbarcare la salma per portarla al porto Sestrese ancora cronaca un 21enne straniero e un 54enne genovese sono stati arrestati dalla polizia a Genova poiché coinvolti in un fiorente traffico di cocaina e marijuana nei vicoli i due pusher facevano base in un appartamento in zona della Maddalena i poliziotti avrebbero assistito ad un passaggio di droga sul portone a seguito dell'irruzione all'interno dell'abitazione il 54enne sarebbe stato trovato in possesso di altre 20 dosi della stessa sostanza oltre a 400 euro in contanti e un bilancino di precisione un successivo servizio alla stazione di Brignole avrebbe consentito di intercettare il 21enne straniero che scendeva da un convoglio proveniente da Roma con un carico di oltre 6 kg di marijuana occultati all'interno di un grosso trolley tre operai incaricati per l'allestimento del cunistand per lo svolgimento del convegno dei giovani industriali che si svolge a Santa Margherita Ligure sono ritenuti responsabili del furto di tre computer notebook di proprietà di una casa di una società con sede legale a Roma le indagini dei carabinieri della stazione di Rapallo hanno portato all'identificazione degli autori del furto si tratta di tre uomini di età compresa tra i 41 e i 47 anni tutti gravati da precedenti di polizia e residenti tra Imola e Bologna gli operai sono stati deferiti in stato di libertà per furto aggravato in concorso la rifurtiva è stata recuperata e restituita a Sesto Levante nella scorsa nottata un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri ha sorpreso e bloccato un uomo che si era introdotto all'interno di uno stabilimento balneare a Caviborgo l'uomo dopo aver già tentato il furto in uno stabilimento vicino era riuscito a portare via alcune bottiglie di birra e generi alimentari i militari lo hanno identificato si tratta di un 49enne che ha già precedenti di polizia è stato arrestato per furto e tentato furto aggravato continuato in concorso i carabinieri dopo aver visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza hanno notato che l'uomo non aveva agito da solo bensì in compagnia di un complice poi identificato in un 31enne straniero senza fissa dimora a sua volta con precedenti che è stato denunciato la refortiva recuperata anche in questo caso è stata restituita voltiamo pagina proseguono le celebrazioni del precetto pasquale presidute dal vescovo nei luoghi di lavoro della nostra diocesi Monsignor Tanasini ieri pomeriggio ha visitato la Espa di Moconesi dove ha formulato un forte invito all'unità sentiamo un invito a realizzare il progetto che il Signore ha sulla vita di ciascuno lo ha formulato Monsignor Alberto Tanasini celebrando l'Eucaristia alla Espa di Moconesi una delle aziende che da anni accolgono il vescovo della diocesi di Chiavari per la celebrazione del precetto pasquale Espa che produce trasformatori e componenti magnetici ha al suo attivo una quarantina di dipendenti i dipendenti anche nonostante tutto che abbiamo avuto degli anni difficili sono sempre gli stessi siamo sempre una quarantina di persone non solo della valle perché abbiamo anche delle presenze che vengono da fuori dalla valle qualche persona arriva anche da Genova e va bene Sestilevante Chiavari eccetera però la maggior parte sono tutte persone dalla valle nella sua riflessione mutuata dalla liturgia del giorno il pastore della diocesi ha poi sottolineato l'invocazione di unità formulata da Cristo poco prima della sua passione e non solo in quanto armonia ma in quanto espressione della più profonda unità del padre con il figlio la divisione ha spiegato Monsignor Tanasini espressione del peccato l'unità viceversa non è massificazione ma amore questa azienda quando funziona quando tutti si è uniti perché se ognuno fa per conto suo se ognuno vuole prevalere sull'altro se c'è un odio un bisticcio tutto va a catafascio dunque vale anche per l'esperienza umana questo impegno di unità di solidarietà è un momento abbastanza positivo rispetto agli ultimi tre anni che non sono stati dei migliori però quest'anno c'è stato una situazione abbastanza positiva sta praticamente seguendo sul positivo molto tempi difficili ma ci sono delle speranze delle positività che nell'anno scorso negli anni passati non si ravvedevano che momento è questo con il vescovo della diocesi in visita alla fabbrica? beh diciamo che ormai sono parecchi anni non mi ricordo quanti ma saranno almeno come minimo una quindicina d'anni o qualcosa del genere che tutti gli anni facciamo questo piacevole incontro e spero di poterlo fare ancora nei prossimi tanti anni la chiesetta millenaria di Villacella a Rezzoaglio si è aggiudicata oltre 4.000 voti nella speciale classifica i luoghi del cuore promossa ogni anno dal FAI il Fondo per l'Ambiente Italiano l'iniziativa giunta quest'anno alla nona edizione è un censimento ideale delle emergenze storico-artistiche ed ambientali italiane che hanno necessità di cura e manutenzione sono stati 37.200 i luoghi segnalati in tutta Italia oltre 2 milioni i voti espressi Villacella si è classificata al 104esimo posto a livello nazionale ora il comitato Villacella sta prerisponendo tutti i documenti necessari per partecipare al bando che potrebbe consentire alla chiesetta di Villacella di beneficiare di un finanziamento per la sua manutenzione per questo ieri una delegazione del FAI del Tiguglio si è recata in visita nel piccolo paese della Val Daveto dove attualmente vivono solo due persone Maria Alba Biggini e il marito ad accogliere la delegazione c'era il parroco Don Roberto Isola e Carla Cella che con il suo entusiasmo sta coinvolgendo tante persone nel compito di valorizzare il piccolo borgo il fondo per l'ambiente italiano infatti presenterà agli sponsor del censimento tutti i progetti di restauro che risulteranno in linea con i punti del bando mancano poche ore all'inizio delle vacanze estive ma l'istituto comprensivo Rapallo si lavora ancora a sodo per la preparazione dell'ultimo giorno domani infatti la scuola aprirà le porte alla città i ragazzi racconteranno il loro anno scolastico attraverso spettacoli concerti performance artistiche saranno decine le rappresentazioni degli alunni guidati dai loro insegnanti si va dalla simulazione del consiglio europeo a quella di un convegno scientifico da un concerto di musica classica a un'esibizione del coro passando per dimostrazioni di giardinaggio quiz interattivi mostre artistiche e un talk show in lingua inglese una rappresentanza degli alunni della scuola infine racconterà ai visitatori le fasi della raccolta del donacibo che ha permesso di raccogliere 467 kg di generi alimentari destinati alle famiglie rapalesi in difficoltà appuntamento dunque a questo per domani per la scuola rapallese nella nostra agenda altri appuntamenti per domani appuntamenti in agenda per sabato 8 giugno come ogni sabato dalle 8 alle 12 nel borgo di Conscientianè sarà allestito il mercatino agricolo della Val Gravedia prodotti tipici a chilometro zero di produttori della valle dalle 8.30 alle 20 in piazza Boi via Asilo Maria Teresa Sastri Levante esisterà la consueta festa della solidarietà dedicata alle associazioni di volontariato del territorio FIAB Tigulio Vivi in Bici propone una gita per rilanciare la ciclovia dell'Ardesia itinerario di 35 km in larga parte pianeggiante la partenza alle 9.30 dalla piscina del parco Tigulio di Lavagna giornate di studi ed esperienze a rifugio delle casermette del Monte Penna a Santo Stefano Daveto dalle 10 conferenze del medico Luciano Andreoli e dell'esperto Kai Italo Franceschini seguirà il pranzo e la passeggiata nel bosco cerimonia di premiazione del 52esimo premio Hans Christian Andersen sulla piazza antistante al comune di Sessere Levante alle 11 la proclamazione dei vincitori del concorso letterario Zoagli Sport & Fun dalle 14 alle 22 in piazza 27 dicembre a Zoagli divertimento sport e serata disco per festeggiare l'estate alle 16 nella biblioteca internazionale città di Rapallo con sede a Villa Tigulio si terrà l'ottavo appuntamento della rassegna sabato in biblioteca sul tema la poesia in gioco Christian Morgenstein musica e non sense a cura di Nicola Ferrari e del piccolo coro Anna e Aldo Faldi partirà alle 16 dalla chiesa di San Rocco di Camogli l'escursione guidata dalle guide del parco sino al semaforo vecchio qui alle 18 sino a mezzanotte aspettando le stelle concerto del quartetto di Fiati cena stellare visione guidata del cielo stellato con possibilità di pernottamento in tenda nell'ambito del festival dei rondoni al parco dell'Aveto alle 16 dalla sede dell'ente parco di Borzonasca partirà l'escursione alla scoperta di questi spettacolari volatili a rischio di rarefazione si conclude al circolo a Clifanin di via Vinelli a Chiavari la mostra degli elaborati dei corsi artigianali alle 16.30 la consegna dei riconoscimenti e lo spettacolo e lo spettacolo di cabaret con Gian Domenico Solari verrà inaugurata alle 17 a Villa Vicini a Zoagli la mostra del pittore e scultore Luigi Santini sarà visitabile sino al 23 giugno con orario 10.12.30 16.19.30 Don Sandro Lagomarsini educazione ambientale l'esperienza dell'appennino al servizio della ricerca e il titolo dell'incontro che si svolgerà dalle 17.30 alla società economica a Chiaverese interverrà Diego Moreno del laboratorio di archeologia e storia ambientale dell'Università di Genova alle 18.30 in Piazzetta Bellotti a Sestri Levante l'associazione culturale Uleudo porterà in scena lo spettacolo alla ricerca di Peter Pan alle 19 dai ruderi di Santa Caterina a Sestri Levante Arianna Come si alleggerà Ansel e Greter e i tre capelli d'oro del diavolo accompagnata alla chitarra da Mario De Simoni Torna la focaccia di Ri appuntamento sul piazzale dinanzi alla chiesa di Rivassa a Chiavari dalle 19.30 stand gastronomici con piatto forte la focaccia al formaggio la serata sarà alietata da giovani fisarmoniche nell'ambito del festival Andersen nella Baia del Silenzio a Sestri Levante dalle 21.30 grande musica con il concerto di piano e voce di Rafael Gualazzi e siamo allo sport la Virtusentella ha vinto questa mattina il trofeo nazionale Berretti campionato riservato al Juniors delle società di Lega Pro la formazione bianco celeste ha battuto in finale la Ternana grazie ad un gol di testa di Naghi giocatore di origine ungherese che ha siglato il definitivo 1-0 nei minuti di recupero al 91 la squadra allenata da Mr. Castorina torna così sul tetto d'Italia dopo 8 anni sentiamo portare a casa un risultato così giocando con l'uomo in meno per la maggior parte della partita è veramente un'impresa che questi ragazzi e Mr. Castorina si meritano perché hanno fatto anche loro un'annata straordinaria l'altro giorno al Comunale dopo la vittoria col Novara ho detto con un po' di temerarietà è l'anno dell'Entella ripeto è l'anno dell'Entella io sono riuscito a trasmettere all'ambiente questo spirito da combattenti perché è il mio spirito io credo che si debba nella vita e nello sport crederci sempre non mollare mai perché poi se sopravvivi anche ai momenti più difficili le soddisfazioni e le vittorie arrivano la storia di questa annata dell'Entella della prima squadra e della Beretti testimonia che abbiamo veramente siamo stati veramente ai vertici della Lega Pro con tutte le nostre strutture con tutte le nostre organizzazioni e questa è una soddisfazione enorme abbiamo chiuso il cerchio di come avevamo iniziato questa stagione in sordina vivendo tutto giorno dopo giorno e piano piano ci siamo accorti che stavamo diventando grandi come squadra e grandi anche a livello singolo e umanamente parlando i valori ci hanno portato fino a qua e gli stessi valori ci hanno concesso di di vincere questa partita all'ultimo secondo in 10 per 60 minuti non è stato semplice lo specchio della stagione questa gara è lo specchio dei miei ragazzi chiusura lo sguardo della nostra programmazione questa sera la puntata di Noi Chiesa su Telepace 1 al canale 15 alle 21.10 vediamo i titoli in anteprima l'ascensione è vocazione e mandato le parole del vescovo in cattedrale istituiti tre nuovi accogliti studenti del seminario diocesano annunciate nuove nomine avvicendamenti in sette comunità della diocesi Don Pendola trasferito a Sestri Levante Don Giupponi nuovo parroco a Moneglia Don Gastaldi parroco a Ribasso una comunità viva che cammina in comunione con le realtà vicine nella solennità dell'ascensione la messa su Telepace è andata in onda dalla parrocchia di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante aperto i battenti Campus Belpiano le strutture della fondazione Zeme a Borzonasca ritrovano la loro vocazione originale saranno luogo di formazione e aggregazione per giovani e famiglie anche Chiavari tra le 40 città che hanno ospitato l'iniziativa Meet the Meeting dal 18 al 24 agosto a Rimini l'incontro di diverse culture sul tema Nacque il tuo nome da ciò che fissavi Per questa sera è tutto grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.